Ciao a tutti voi ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono il vostro caro MastroKing e siamo qui oggi in un nuovo video ovvero uno spacchettamento Pokemon Ovvero siamo qui per spacchettare quattro bustine Pokemon uno solo è l'una normale e l'altro sono solo due guardiani nascenti E quindi direi subissimamente di partire con quello classico sperando di trovare carte abbastanza forti, abbastanza belle da vedere quelle rare Allora, iniziamo subito, qui abbiamo Surskit, che è questa qui è, poi abbiamo Iungos E poi abbiamo Litten, Ferov, poi abbiamo Paras, un altro Iungos però, questo di lantinato Poi abbiamo questo che si chiama Desiduei, che è questo qui Poi abbiamo un bel Energia Acqua, abbiamo Hypno E questo è differente diciamo, no il disegnere è molto differente rispetto alle altre, infatti guardate il disegnere è diverso Poi abbiamo Terambic, che è questo qui Ed Energia Arcobaleno, che non so che differenza c'è dall'altra Ok, fornisce un'energia di un Tivorsia, sì E questo è il primo pacchetto aperto Poi direi di andare subito, un secondo Allora Abbiamo Weimer Poi Stufull Poi abbiamo Phantom Poi abbiamo Helioptil E questo qui Poi abbiamo Bellum, che è la forma base, quella che poi si evolverà in Metacross Questa è più carina E si chiama Turtonator Infatti questa la metto da parte Poi abbiamo Origorio, che è questo qui Poi abbiamo un Energia E una scheda, quindi l'Altario Solare, che è questa qui Poi abbiamo Akamoo Che è questo disegnere qui E infine abbiamo Glidescore Che devo essere sincero, io ho uno dei miei Pokémon preferiti Poi andiamo ad aprire il terzo pacchetto Allora, come prima carta abbiamo Snorant Poi abbiamo Castform Poi abbiamo Bunny Light Poi abbiamo Markrove Poi abbiamo Sarandit Poi abbiamo Shellove Che è la versione della bilantinata E lo metto da parte Poi abbiamo Victreebel Un'altra Energia, come quella di prima Un altro Gridescore, intanto non dirò, faccio lì Lo metto qui Poi abbiamo Crefable E Metang Che è l'evoluzione diretta di Beldum Quello che abbiamo trovato prima E metto queste carte qui Ora è il momento dell'ultimo pacchetto Allora, abbiamo come primo Pokémon Come primo Pokémon Eh, tanto questo Ti metto qui Phantom Che è questo qui Poi abbiamo Machop Flakrill Poi abbiamo Vulpix Però nella versione di Alora Quindi quello là bianco Poi abbiamo Godita Un altro Vulpix Però la versione questa bilantinata Che metto qui Sempre ovviamente nella versione di Alora Tanto questa la metto qui tra i doppioni Poi abbiamo Riguaza Che anche se non è bilantinata È un Pokémon abbastanza potente Essendo un leggendario Poi abbiamo l'energia a fuoco Super Martello E Grali Che verrà anche questo un bel Pokémon Ma è uno che mi piace molto E infine abbiamo Wachok Che è un Pokémon di quinta generazione Allora In totale vado a comprare 40 figurine Di cui due sono doppioni E di cui appunto abbiamo Anzi sono tre doppioni Perché abbiamo anche Angus Poi semmai troverò qualcuno Con cui scambiarle Così magari avranno qualche altra carta Quindi queste 30 30 36 Sono 34 normale No 33 normale 3 Brillantinate E un leggendario E 3 doppione Quindi questo è sostanzialmente Lo spacchettamento di oggi Spero che questo spacchettamento Vi sia piaciuto Se è così comunque lasciate Un bel mi piace al video E iscrivetevi al canale E seguitevi su Twitter E Instagram E Facebook O comunque voi vogliate Ciao a tutti voi